Un'intera classe in quarantena con studenti positivi all'Istituto Superiore Curcio di Ispica. Con il tampone eseguito subito dopo il riscontro dei primi sintomi è risultato positivo un solo studente. Solo col tampone eseguito a cinque giorni di distanza si sono registrati altri tre casi. La situazione resta abbastanza sotto controllo, dice il dirigente scolastico, professore Maurizio Franzò, che ricopre anche la carica di presidente regionale e vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Il nostro direttore Piero Giunta lo ha incontrato ed intervistato. Ascoltiamo le parole del dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Curcio, professore Maurizio Franzò. Allora, presidente Maurizio Franzò, studenti in quarantena positivi all'Istituto Curcio di Ispica. Le chiedo qual è la situazione, cosa ci può dire? Raffiguriamo chi ci ascolta. Sì, grazie Piero. Intanto un saluto a tutti i radioascoltatori. Se non dovessimo sentirci prima delle vacanze di Natale, un augurio per tutte le famiglie e gli studenti che frequentano le scuole di qualsiasi, diciamo, istituzione scolastica. Detto questo, per quanto riguarda il Curcio di Ispica, noi abbiamo avuto una classe in DAD, perché all'interno della classe sono risultati quattro studenti positivi, ma stia tutto rientrando, quindi probabilmente prima delle vacanze di Natale rientreranno a svolgere le attività in presenza, perché attendiamo la formalizzazione della comunicazione da parte delle autorità sanitarie, anche se già in modo informale le famiglie ci stanno comunicando che i quattro ragazzi, tre dei quattro ragazzi si sono negativizzati e quindi tutto dovrebbe rientrare. Detto questo, non mi sembra che ci siano ulteriori elementi che possano destare preoccupazione. Ovviamente l'augurio è che i ragazzi stiano attenti, adottino tutte le norme, le prescrizioni del caso e che quindi possono, diciamo, avere un sereno periodo di festività natalizia. Dal suo osservatorio regionale e nazionale, quale presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi e vicepresidente dell'ANP, ci spieghi come vive la scuola, il mondo scolastico, questa situazione d'angoscia. Sappiamo che la vaccinazione è il rimedio. E allora, quali sono le proposte dell'ANP? Ma guarda, il mondo della scuola, non per nulla, con l'ultimo decreto, il 172, di fatto è stato assimilato alle stesse procedure della sanità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una massima attenzione da parte del governo e ovviamente questo ci induce ad essere molto attenti e a vivere questo periodo con una particolare attenzione. Tra l'altro alcune indicazioni che erano e che per il mondo della sanità vengono adesso attribuite al sistema scuola e non sempre il sistema scuola queste prescrizioni le può, diciamo, applicare. Detto questo, come lo stiamo vivendo? Lo stiamo vivendo con la giusta preoccupazione, preoccupazione intesa come stato d'animo che ci induce a stare molto attenti, attenti affinché le prescrizioni vengano osservate. Ora il personale dal 15 di dicembre dovrà avere il Green Pass rafforzato, quindi il sistema di vaccinazione è steso a tutto il personale. Questo era quello che noi abbiamo sempre auspicato sin dalla prima ora, perché non vedevamo, diciamo, soluzioni alternative. Noi eravamo per la vaccinazione obbligatoria, quasi quasi, sono molte, diciamo, anche categorie sindacali hanno gridato allo scandalo su questa nostra posizione di ANP, ma non voglio dire che i numeri ci davano ragione, adesso il governo è stato costretto ad applicare questa norma, perché non ci sono in questo momento altre soluzioni, se non quello di estendere il vaccino a tutta la popolazione possibile, cioè questo è il vero problema. La popolazione scolastica è quella che maggiormente può risentire, diciamo, di una veicolazione, quindi l'intervento di estendere l'obbligo, oltre al personale sanitario, anche al personale del mondo della scuola, noi lo attendevamo da un po' di tempo, perché non vedevamo altre soluzioni alternative. Una delle proposte che noi avevamo avanzato era quello di accelerare il, diciamo, il tracciamento, perché abbiamo riscontrato che non tutte le aziende sanitarie sono state in grado di assorbire il protocollo che era stato avviato, ovvero che, conosciuto, diciamo, l'alunno, lo studente, o il positivo nella classe, bisognava immediatamente avviare il cosiddetto tampone T0 per vedere un pochino lo stato degli altri ragazzi. Allora, questo noi pensavamo, si pensava che avvenisse l'indomani immediatamente, invece questo non accade. Noi abbiamo immediatamente avanzato una richiesta, quello di accelerare, di accorciare questi tempi tra la comunicazione fatta dalla scuola all'autorità sanitaria e la somministrazione del vaccino T0. Questo cosa ha comportato? Ha comportato uno stop and go di una nota ministeriale che poi, diciamo, è stata subito rivista, perché il commissario generale Figliuolo ha assicurato che le aziende sanitarie avrebbero immediatamente accelerato, diciamo, accorciato questa tempistica nella procedura riguardante il tracciamento dei positivi. Detto questo, poi però si è aggiunta adesso la misura del Governo di estendere l'obbligo vaccinale al personale scolastico. Quindi, per carità, altre proposte non ne abbiamo, perché quelle che noi abbiamo fatto, di fatto, stanno per essere applicate. Cioè, noi abbiamo chiesto la vaccinazione obbligatoria sin dal primo giorno. Il Governo ha emesso questo decreto che dal 15 di dicembre, di fatto, il personale coinvolto nel sistema scuola deve essere vaccinato. Ci avviciniamo alle vacanze natalizie. Le persone, i giovani, gli studenti si muovono, viaggiano per conoscere, per scoprire nuovi mondi. La domanda che le faccio è, da dirigente scolastico, da buon padre di famiglia, cosa vuole dire loro attraverso i nostri microfoni? Le sue raccomandazioni, Prefide? Ma guarda, Piero, io, come dirigente scolastico, ma anche come genitore, noi stiamo tentando di riprendere una, tra virgolette, normalità. È ovvio che questa normalità e ordinarietà delle azioni che la scuola pone in essere si deve sempre valutare nel contesto in cui ci troviamo. Noi stiamo organizzando, per esempio, stiamo riprendendo gli stage che facciamo a Folgaria in Trentino. A gennaio ci sarà un primo gruppo di studenti, sono 100 studenti circa che partiranno. È ovvio che tutto si può realizzare se ci sono le condizioni. Una delle condizioni è che da una regione si va in un'altra regione a condizione che da regione bianca si vada in regione bianca. Quindi questa è una delle condizioni. La seconda condizione è che tutti i ragazzi devono avere, diciamo, quegli strumenti che la norma indica, quindi il Green Pass rafforzato di fatto. Questo è quello che sta nelle cose. Cioè se noi vogliamo riprendere la normalità di un'azione dobbiamo tenere conto che questa normalità però si può realizzare tenendo conto del contesto di emergenza in cui ci troviamo. Come Istituto Curcio stiamo riorganizzando le cose che abbiamo sempre organizzato negli altri periodi. La raccomandazione è che ci si attenga a tutte le prescrizioni. Questa è la raccomandazione forte che stiamo ponendo a tutte le famiglie, agli studenti, perché altrimenti ogni sforzo organizzativo viene meno rispetto a delle attività e a delle azioni poste in essere dagli studenti che non siano in linea con le prescrizioni. Ringrazio il dirigente dell'Istituto Curcio di Ispica Professor Maurizio François Piero Giunta per Radio Dimensione Musica Piero Garlow Grazie mille Grazie mille